Per il debutto ufficiale di stagione in un Città degli Olivi ridipinto e rimesso a nuovo in attesa dei lavori di ristrutturazione post-bando ministeriale, mister Claudio De Luca sceglie un modulo classico, il 4-3-3, e si affida dietro alla consueta coppia di baluardi, Petta Lanzolla. Nel mezzo è Manzo il facitor di gioco, con le sopraffine mezziali Biason e Guadaluppi accanto. Davanti, Capitano Attanzio diviso fra Sportellate e Sponde e Compagni, l'imberbe Palumbo a settar sulla fascia mancina e il genio tascabile Taurino a svariare lungo tutto il fronte. Il confermato Pepi, alla tolda del rotonda, costruisce il fortino difensivo intorno a Giordano, in mediana sistema a moto perpetuo Boscaglia e Camilleri ad inventar trame, manco fosse un celebre scrittore. Nel reparto offensivo brilla la multinazionale lucana con l'ivoriano Adeyemo e il brasiliano Ferreira, a supporto dell'argentino Actis Goretta. Si parte e il predominio dei Neroverdi è d'un subito nitido. Poco prima del quarto d'ora, filtrante in aria per il fantasista Taurino, che buggera Polizzi in uscita, ma finisce fuori con la sfera. Subito dopo, collo al volo di Guadaluppi da fuori aria, di poco sopra la traversa. Conclusione in carta carbone, otto minuti dopo, eppure l'esito purtroppo è il medesimo. Al minuto 26 il Bitonto passa in vantaggio con un destro potente di Manzo, deviato in modo esiziale da un difensore bianco-verbo. A 10 dall'intervallo un tiro tagliato di Taurino, sibile ad un sospiro dal palo. Il raddoppio dei padroni di casa matura al trentanovesimo, quando, suppiazzato dai venti metri, l'Attanzio dipinge col sinistro una traiettoria perfida che incoccia nel legno e si insacca. Gli ospiti reagiscono, blandi, e il destro di Ferreira è una gentile carezza per Carotenuto, che si adagia e blocca il quarantunesimo. Dopo la pausa, sorpresa, si ribalta il canovaccio. I leoni ruggiscono afoni e i lupi del pollino ululano minacci. 5 minuti e uscita improvvida dall'estremo Bitontino, che travolge Ferreira. Rigore. Acti sgoretta, fredda dal dischetto Carotenuto, e i tifosi Bitontini assiepati sugli spalti. Al tredicesimo, lo stacco della punta carioca su cross di Camilleri, confezione il pareggio, quasi insperato. Dopo un momento di smarrimento, i baresi riprendono a macinare gioco. A tre dalla mezza, Danna si invola sulla destra e scodella per la corrente capitano, che stocca di piatto. Polizzi mura con bravura e buona sorte. A dieci dallo scadere, cioccolatino di Biason per l'Attanzio, che inzucca di poco alto sulla traversa. In pieno recupero, volo d'angelo del puntero andriese, e sfera ancora una volta fuori bersaglio. Finisce così con un poco salomonico 2-2, un match bifronte, che costituisce indubbiamente un mezzo passo falso per una delle favorite del torneo, e rappresenta un punto in meno degli otto di penalizzazione da recuperare per i Lucani.